Cassino Moda presenta sposi del terzo millennio fiera della sposa anteprima 2018 esposizione articoli e idee per la sposa arredo e design primo appuntamento dal 4 al 5 novembre palatenda della moda piazza green Cassino secondo appuntamento dal 18 al 19 novembre palatenda della moda parcheggio stazione ferroviaria di monte san biagio dalle ore 16 e 30 spilate di abiti da sposa intimo e cerimonia sposi del terzo millennio fiera della sposa a novembre due appuntamenti dedicati alla sposa da non perdere ingresso gratuito posto a sedere buffet offerto a tutte le coppie organizzazione come sempre fabio roscillo